So avanti anche per Sorso che ha visto il nuovo campo di calcio inaugurato ieri. Vediamo il servizio di Fabrizio Granruccio. Dalle 15 di ieri Sorso ha finalmente il suo nuovo campo di calcio. Il manto in erba sintetica dello stadio La Piramide è stato inaugurato alla presenza delle autorità istituzionali e sportive da un quadrangolare che ha visto protagoniste la squadra di casa che milita in prima categoria il Sorso Calcio e poi la Torres, l'USD Senori e la nuovissima realtà calcistica dell'atletico Sorso. Prima non aveva la fruibilità di un campo per utilizzarlo praticamente tutti i giorni. Anzi c'era sempre un problema, un allenamento, una partita. Ora invece abbiamo dato la possibilità che non dico H24 ma quasi il campo potrà essere utilizzato. Lo sport è veramente la cinghia di trasmissione dell'inclusione, della socialità, della condivisione. Non è competizione, non è il combattimento, la lotta contro l'avversario ma è proprio una grande forma di socializzazione, di integrazione e di condivisione su tutto. Questa è una struttura che aspettavamo da tanto tempo, che la comunità aspettava da molti, troppi anni ormai. Lo aspettavano le associazioni sportive, lo aspettava il mondo del calcio ma io devo dire che lo aspettavamo tutti. Questi sono luoghi di aggregazione importanti che permettono ai giovani di incontrarsi, di fare aggregazione, di crescere dal punto di vista educativo, umano e civile e soprattutto insomma di poter scommettere nel loro futuro come noi speriamo. Penso che questo nuovo stadio ci sia un nuovo impulso a crescere e ad arrivare nelle categorie in cui merita sorso calcio. Al taglio del nastro ha fatto seguito una piccola cerimonia di consegna di riconoscimenti simbolici, fra i premiati anche una vecchia gloria della società fondata nel 1930, Mario Valeri. Grazie.